Grazie al progetto Leggere uguale per tutti, finanziato dai volontari del circolo Hauser, la biblioteca comunale Orioli di Alfonsini si arricchisce di una sessantina di libri speciali che andranno ad integrare la piccola dotazione di base di libri ad alta leggibilità già presenti nella biblioteca comunale. Il progetto è nato grazie all'interesse di Hauser e soprattutto dei volontari di Alfonsini che hanno appunto individuato nella biblioteca un partner per poter attivare un progetto condiviso da rivolgere alla cittadinanza e abbiamo denominato questo progetto Leggere uguale per tutti e si tratta appunto di un progetto che promuove la lettura facilitata e quindi l'approccio al libro nei confronti di quei bambini e ragazzi che invece hanno difficoltà nella lettura e sono in particolare i bambini affetti da dislessia, i bambini con disturbi specifici dell'apprendimento, i DSA appunto, quelli con bisogni educativi speciali, i bambini con deficit visivi, ma anche i bambini non di madrelingua. Noi abbiamo contribuito all'acquisto, alla donazione di questi libri alla biblioteca affinché anche i bambini possano utilizzare e avere la possibilità di incrementare la loro cultura leggendo e mettendo a disposizione degli strumenti innovativi come questi. I libri sono molto belli e quindi il progetto si dispone in due annualità, questo è il primo anno, poi ci sarà un ulteriore contributo per il prossimo anno sulla formazione e sull'acquisto di nuovi libri. Veramente un bellissimo progetto per Alfonsine, ma non solo per Alfonsine, perché comunque questo tipo di progetto non mi risulta che nei paesi qui vicino a noi vi siano altre realtà che l'hanno già adottato.